In questo video faccio vedere come cambiare le lampadine del Ducato 2008 i DTD della plafoniera in alto, questa qua. Per cambiare le luci dell'abitacolo del Ducato del 2001 ci sono due blocchi qua e qua e dovete togliere soltanto la parte trasparente, quindi si applica un cacciavite qua e si fa un po' di forza. Insomma basta fare un po' di forza col cacciavite e vengono via, ci sono due molle a pressione qua per cui basta tirare, questo qua viene giù. Le lampadine sono dietro questa parte bianca, ok, dietro questa parte bianca, una l'ho già tolta per impiazzarla, adesso tolgo anche l'altra, questa qua. Eccola qua. Le lampadine sono lunghe a 37,5 mm le mie. Non ne ho trovate in commercio a 37,5 mm, allora ho preso queste a 36 mm da Amazon e vanno bene ugualmente, bisogna storgere leggermente le linguette.